Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Avete presente il vecchio jingle Gira la ruota? Una fortunata trasmissione televisiva, che forse i nostri allievi più giovani non conosceranno, ma che permetteva proprio di, hop, girare una ruota colorata come quella che state vedendo ed attendere un esito. Ebbene, la ruota dei nomi, Wheel of Names, c'è ed è comodissima e facile da impostare ed usare anche per la didattica. Dove può servire? Ad esempio, per, in maniera accattivante e per mantenere alta l'attenzione degli alunni, estrarre a sorte il nome di un alunno da chiamare per un progetto o da interrogare. Oppure ancora, visto che c'è la possibilità di sostituire ai nomi delle immagini una bella ruota, ecco, di epoche storiche, girando la ruota con un click, sarà possibile scegliere quale tra le epoche storiche far commentare ad un gruppo di lavoro, ad un singolo alunno. Ebbene, nulla da installare, peraltro ringrazio l'amico Albano Battistella che, con un suo post, ha, come dire, riportato alla mente questa risorsa che avevo già usato qualche tempo fa, sito di riferimento willofnames.com, se aggiungiamo slash it otteniamo di già l'interfaccia, cioè la lingua dei menu italiana. Altrimenti, da questa tendina, qualora si trovi English, sarà possibile, e quindi diventa carina anche per lingue, scegliere appunto un'altra lingua straniera. Troviamo una sequenza di nomi automatici casuali impostata qui a destra, ma guardate la facilità d'uso, io clicco dopo Ali, se digito Andrea è al posto di Beatriz, anzi vado a capo con invio, dopo Beatriz aggiungo Giulio, insomma vedete la facilità vera di composizione della ruota. E addirittura, se io volessi, ecco, un utilizzo così rapidissimo, sarei già pronto, perché con un clic al centro, anche l'effetto sonoro che ricorda appunto un pochino il programma, ma che in realtà accompagna il tutto, ci porta a Fatima. Abbiamo un vincitore, se clicco su chiudi, Fatima resta e potrò girare la ruota un'altra volta. Addirittura come impostazione predefinita, cliccando rimuovi, io avrei già estratto Fatima, dunque non correrei il rischio di estrarla una seconda volta e potrei procedere ad una nuova rotazione. Bene, questo è l'utilizzo base di Wheel of Names, ma guardate, oltre a poter cliccare su schermo intero per avere, nel caso in cui la si proponga, su monitor interattivo LIM una ruota della fortuna, in realtà l'interessante per noi è cliccare su salva, icona forma di dischetto, perché se accediamo ad un nostro account Google, oppure con una email alternativa di terza parte, guardate, io ora clicco, vado a scegliere, ho un account personale Gmail, ho un account scolastico Google Workspace, che ora verrà probabilmente trovato qui sul mio browser Google Chrome, in realtà vedete, ho fatto la pulizia dei cookies, cioè dei dati lasciati nel browser, infatti mi chiede ex novo da zero un indirizzo email e io volentieri lo digito, quindi digito uno dei miei account Google Workspace, vado a digitare quella che è la sua password e questo servirà a che cosa? Ad avere, per non generarla più, la ruota della prima A sempre pronta, la ruota della seconda B sempre pronta e guardate con quale facilità, salva come, rimuovo la denominazione inglese campione, digito seconda A, poi clic su salva, ed ecco la ruota della seconda A perfezionata, laddove io voglia richiamarla per le prossime volte, allora entrando in wheelofnames.com andrò a cliccare apri e a scegliere il nome della mia ruota, non la dovrò rifare più, ma guardate ancora con un clic su personalizzare quante cose sia possibile variare, ad esempio durante la rotazione cosa deve succedere, quale suono, il ticchettio, posso avere dei duplicati sulla ruota, due Andrea, perché ne ho due, clic, devo girare più lentamente, attivo tale opzione con un clic sul quadratino, quanti secondi deve girare la ruota e lo decido, quanti nomi al massimo dovranno apparire sulla ruota, cosa dovrà succedere dopo la rotazione, per cui lanci i coriandoli, rimuovo automaticamente il nome del vincitore dopo 5 secondi, personalizzo addirittura il messaggio abbiamo un vincitore, insomma il mio entusiasmo, me lo concederete, è giustificato dal fatto che una risorsa digitale per la didattica possa essere semplice, utile, liquida, cioè utilizzabile dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado e oltre, persino da che questo nuovo videocorso cade in estate, per una serata tra amici, per un'occasione un pochino diversa e frizzante così per, ecco, intrattenersi magari con un tablet o con uno smartphone. Se andiamo invece sulla tendina altro, ecco che possiamo ad esempio, utile guardate faccio un click, attivare la modalità scura così da focalizzare ancora di più l'attenzione sulla ruota. Ebbene, ora abbiamo visto come a settembre utilizzare una risorsa semplice, piccola forse ma preziosa e carinissima, ma anche come servirci della didattica digitale per creare contenuti per una lezione realmente partecipata e non passiva o comunemente frontale. Un caro saluto ancora a tutte e a tutti voi, grazie sempre per la fiducia e la stima e a presto! Un saluto da Andrea Cartotto, ciao!